cartablet dedicato bmw x3 x4 10.25 pollici android 11 6 gb di ram 128 gb di rom apple carplay android auto prima dashboard adesso passiamo alla seconda dove il cliente potrà personalizzare le varie colorazioni c'è che veicolo apertura sportelli e poi premendo a sinistra potrà accedere alle varie personalizzazioni e comunque queste sono cose che farà il cliente dopodiché andiamo a gestione audio e video tramite le usb qui siamo in gestione audio recupero comandi al volante abbiamo anche il joystick originale come vedete che possiamo usare tranquillamente e poi possiamo passare alla gestione video che è sempre un app vicino a fianco eccola qui possiamo andare a schermo intero sempre massima attenzione questo è stato fatto per i passeggeri e poi accediamo al classico menu android dove abbiamo tutte le funzioni con le varie app non poteva mancare il play store dove cliente si scarica le app che desidera usare maps processore sonoro dsp internet e browser di ricerca dove il cliente potrà andare a fare le varie ricerche se desidera sempre per intrattenimento passeggeri andiamo usare l'app youtube oppure potete mettere la musica e in viaggio vi potete sentire la musica funzione split screen dove sempre per il guidatore andiamo a impostare a sinistra il navigatore e a destra potrà usare o la gestione audio e video tramite usb oppure youtube oppure si scarica altre app e decide il cliente cosa usare insomma questa linea di massima abbiamo anche la funzione apple carplay android auto dove il cliente a secondo lo smartphone che ha potrà usare retrocamera che abbiamo installato noi nel momento in cui avremo un ostacolo vicino alla macchina interverranno in automatico come vedete a sinistra il simbolo della macchina i sensori di parcheggio e poi cosa molto importante tutte le funzioni originali dove il cliente potrà impostare la radio originale menù setup check veicolo impostazioni veicolo ecco qua navigatore originale bmw un motivo in cui motivo per la quale parecchi clienti lo cambiano e si affidano ai nostri prodotti info vettura computer di bordo ricerca immagini insomma tutte le funzioni originali della macchina rimangono in essere come al solito ripeto sempre tutti i nostri prodotti sono presso il nostro shop shop audiolite.it oppure sito internet www.audiolite.it per andare su android è semplicissimo basta toccare il touch e in automatico passa in android grazie 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 grazie